mezzo a te, un altro, un altro, un altro io è sculto già finito, prima di due, bene mia moglie ti che hai fatto? che hai fatto? già bevuto senza mangiare, compro una birra guardo a casa sento uno che mi metti una birra ragazzi? è spento ancora spento vai vai bravo allora se tu fai provo a quelli che non combrano io lo compro per te lo ciò no è spento ancora a sostanza corrente